Il dovere di non tacere, il diritto ad ottenere la verità, l'invito a sentire, a vedere e parlare. Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, chiede di non arrendersi, parla di crimine organizzato che si è trasformato in normalizzato, si rivolge ai familiari delle vittime di mafia, lo fa dall'altare della chiesa madre di San Marco in Lamis, ricordando i fratelli Aurelio e Luigi Luciani, gli agricoltori uccisi cinque anni fa, il 9 agosto del 2017, vicino alla stazione dismessa del paese da innocenti, forse perché testimoni inconsapevoli di un inagguato in cui morirono il boss Mario Luciano Romito e suo cognato Matteo De Palma. Lo Stato ha dato delle risposte ma non basta, la ricerca che è stata fatta sul territorio vede che nella testa di molti c'è ancora un po' di indifferenza, la normalizzazione e invece siamo qui proprio perché la vera memoria è quella viva, loro sono morti e devono essere più vivi. Il sacrificio dei fratelli Luciani, sono le voci in chiesa e sul luogo della strage, ha generato un cambiamento positivo, molto è stato fatto, altri risultati verranno e la promessa dalla squadra Stato che ha chiesto collaborazione e impegno ai cittadini, no all'omertà, no al silenzio. Le vedove non dimenticano e chiedono giustizia. La nostra classe dirigente ha ignorato, ha sottovalutato questo fenomeno, il fenomeno mafioso qui in Capitanata. Io penso che anni addietro è stato proprio non preso in considerazione il fenomeno. 40 anni di omicidi e nessuno che si è reso conto di niente. Loro erano nel loro territorio, erano al lavoro, svolgevano il loro dovere. Erano altri che non dovevano stare lì quella mattina.